Un ordine del giorno proposto dal Partito Democratico a tutti i comuni per rilanciare e rafforzare il percorso verso le cosiddette comunità energetiche. E questo è il presupposto dell'incontro con i giornalisti convocato stamane alla mezza terme, cambiamenti climatici, costo delle energie e possibilità per i comuni e per i cittadini di contribuire alla transizione energetica. Bisogna abbandonare le energie tradizionali per mettere in campo anche quelle che sono le azioni che ci vengono suggerite dall'Unione Europea con quello che è il piano del Fit for 55 per esempio, che ha come obiettivo fondamentale quello del passaggio ad una neutralità climatica. L'occasione è stata comunque utile per ampliare le riflessioni con il segretario del PD Nicola Irto che partendo proprio dalle comunità energetiche attacca il governo regionale che, dice Irto, annuncia ma non fa. Una cosa è l'annuncite, una cosa è fare. Io penso che la regione Calabria ci ha abituato in questi oltre tre anni di governo della destra, ci hanno abituato ad annunciare. Purtroppo di fatti concreti non ne vediamo nessuno. PD che si prepara poi alla sua conferenza programmatica. Entro il 20 gennaio circa a fare due giorni di conferenza programmatica in cui presenteremo il documento elaborato da noi che offriamo alla discussione pubblica dei calabresi rispetto ai temi scottanti della nostra regione. Ed infine il caso Cosenza con la raffica di autosospensioni che ha di fatto congelato la governance della più grande federazione dei DEM calabresi. Ma io sono sempre contro i commissariamenti come è noto. Questa è una mia cifra da sempre. Lo era prima, lo è ora, aggiungo lo sarà anche per il futuro. Sono profondamente convinto che nel dibattito interno, nella forte discussione interna che ci può anche stare e che c'è, si troverà il luogo e i luoghi deputati che non sono, con tutto il rispetto per voi, la stampa, ma sono i luoghi deputati che sono gli organismi democraticamente eletti. Sono sicuro che lì si confronteranno anche ragioni diverse, posizioni diverse, ma è lì che un partito si confronta, anche si scontra, ma poi trova una sintesi per andare avanti.